Allora, si può sapere chi è stato? Sei stato tu? No, non sono stato io. O forse sì. Ma mi prende in giro? Siamo stati tutti. Vede, noi siamo una squadra di professionisti e i professionisti lavorano insieme. Ognuno ha il suo ruolo per un obiettivo comune. Basta! Siamo qui per capire chi l'ha centrato questo obiettivo. Non fatemi perdere tempo. Siamo stati noi. E voi? Chi sareste? Quelli del video. Video? Vede, noi siamo i fellini della banda. Qualsiasi video per qualsiasi esigenza. E dalla sceneggiatura al montaggio, eh? Abbiamo anche un canale YouTube. Quasi 700.000 visualizzazioni. Ci siamo anche noi di internet. Il nostro sito è una finestra sempre aperta verso i cittadini. Diamo spazio alle attività dell'ente in modo semplice e chiaro. Si figuri che abbiamo oltre 3 milioni di contatti in un anno. Noi grafici abbiamo certamente contribuito a centrare il bersaglio. Noi diamo vita alle idee dei nostri colleghi. Noi le confezioniamo, le coloriamo, le impaginiamo. Siamo i creativi del gruppo. Anche la signora dice che è stata lei. Qualcun altro? Guardi che ci siamo anche noi. Siamo l'ufficio stampa. Diffondiamo i comunicati. Teniamo i rapporti con i media. E ogni settimana facciamo la spedizione. Di che spedizione sto parlando? Ma la spedizione del nostro settimanale online cronache. Da 55 anni uno sguardo approfondito sull'ente e sul territorio. Mi lasci la mail. Ne lo mandiamo. Ma mi faccia il piacere. A proposito di piacere, lei sa quanti mi piace, quanti like, quanti tag, quante condivisioni riceviamo sui nostri social? Tantissimi. Siamo su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e poi Flickr e Telegram. Le basta? E non dimentichiamoci di Torino Scienza, un portale internet e due profili social aggiornati tutti i giorni sulle iniziative del sistema, il sistema Scienza Piemonte. Ci sono ancora altri colpevoli? Noi, le relazioni, le vogliamo dimenticare? Di che relazioni stava parlando? Ma le relazioni con il pubblico, è ovvio, con i cittadini. Noi incontriamo tante persone, quasi 10.000 persone all'anno. E abbiamo una risposta per tutto e per tutti. Anche per i nostri colleghi tramite la intranet. Noi abbiamo complici in tutta Europa. Come Europe Direct spacciamo informazioni sull'Unione Europea. Abbiamo uno sportello, lavoriamo molto con le scuole. Ormai ci contattano in tanti per conoscere le opportunità dall'Unione Europea. Basta, voglio sapere chi ha fatto a centro. Chi ha colpito il bersaglio? Tutti! Siamo tutti colpevoli! È la banda che fa il lavoro di squadra. È così che centriamo il bersaglio. Siamo tutti i nostri amici.